And nothing but a nasty... Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Buon Feminist Friday a tutte e tutti voi e buon 8 marzo a tutte e tutti voi. Sono davvero felicissima che anche questo 8 marzo lo passeremo insieme. E oggi siamo al secondo video perché lo volevo strafare e stavolta invece vi parlo di una cosa molto carina, un'iniziativa editoriale che adoro che è quella di Adotta un indomito organizzato da Bao Publishing. In occasione dell'uscita del secondo volume di Indomite, di Penelope, diversi booktuber organizzeranno una serie di video dove vi parleremo nel dettaglio di un personaggio che abbiamo deciso di adottare, che è contenuto ovviamente dentro questa raccolta di vite, potremmo dire di mini biografia fumetti, che davvero secondo me anche in questo secondo volume si è dimostrato all'altezza del primo. Anzi, posso dirvi personalmente l'ho preferito addirittura al primo perché qui c'è tantissima musica e io davvero ci tenevo moltissimo ad esempio a parlarvi del personaggio che vi racconterò fra poco per un motivo fondamentale, si parla sempre troppo poco delle donne nella musica. Indomite raccoglie una serie di biografie che vengono rese a fumetti e sono davvero piacevoli e potete leggerne una ogni tot, potete leggerle tutte insieme. Io non ho resistito, ad esempio l'ho finito in un'oretta appena mi è arrivato perché era impossibile resistere e sono davvero fonti di ispirazione per tanti motivi diversi. mostrano davvero tanti aspetti della società e come ognuna di queste persone abbia cercato di apportare una piccola rivoluzione attraverso la propria vita e questo è una cosa che trovo davvero estremamente d'ispirazione, mi piace davvero moltissimo. Sostengo questa iniziativa al 2000%, quindi sono molto felice a dire di parlarvi della mia indomita. La mia indomita si chiama Betty Davis e molti di voi non avranno neanche idea di chi sia ma se io davvero penso a una figura femminile che abbia rivoluzionato il mondo della musica Betty Davis, sconosciuta praticamente a chiunque, è veramente uno di quei nomi che saltano all'occhio subito anche se ha fatto parte di un filone musicale che non è propriamente il mio, ovvero il funk ma non so come dire, è stata amica di Jimi Hendrix, sposata con Miles Davis e amica di un sacco di musicisti della scena rock ma non solo, anche soul, jazz, funk eccetera del suo tempo e nonostante nessuno ora cerchi di annoverarla come una delle voci più prepotenti probabilmente della rivoluzione musicale a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 Betty lo è stato e io sono felicissima e orgogliosissima che sia stata inserita qua dentro perché si merita tutto, si merita tutto vi parlo di Betty Davis e perché è qua dentro anzi lei forse è l'unica indomita che è stata definita ai suoi tempi come indomita da Carlos Santana quindi non dall'ultimo della lista insomma Betty Davis nasce da una famiglia poverissima nell'America degli anni 50 si trasferisce giovanissima a New York ed è una donna bellissima è una ragazza afroamericana veramente bellissima che lavora a New York sia come modella ma non solo si appassiona di musica, inizia a frequentare la scena musicale underground, the rock che stava esplodendo in quegli anni e in mille sfumature eccetera eccetera ed è una persona soprattutto molto intelligente dal punto di vista musicale perché riesce a intuire la fusione di tanti generi diversi e anche a trasmetterla diventa moglie di Miles Davis che chiaramente è riconosciuto nel pantheon dei più grandi del mondo ma Miles la lascia perché è indomabile, è troppo, senza controllo, dice continuamente quello che pensa pensa te che difficoltà e non scende mai a compromessi e pubblica pochissimi album in realtà la sua attività musicale che nasce in realtà dopo il divorzio da Miles Davis però con partecipazioni davvero eccellenti Santana come vi citavo prima Harvey Hancock, Phil Collins Jamie Hendrix era la migliore amica di Jamie Hendrix e influenza tantissimo tutti questi artisti dell'epoca e decide di pubblicare dei lavori propri con estrema difficoltà perché ha un piccolo problemino Betty Davis non scende mai a compromessi e soprattutto la sua particolarità era che scriveva canzoni in un'epoca in cui le donne non scrivevano canzoni non avevano nulla a che fare con l'ambiente musicale se non come interpreti e soprattutto interpreti di canzoni d'amore che parlassero solo di quello e invece a Betty non frega assolutamente nulla di fare queste cose è troppo brava ha qualcosa da dire e questo lo intuiscono in tanti tanto che incide degli album che però tutti si trovano a un certo punto in grossissima difficoltà perché rivoluziona davvero quello che è la sfera musicale soprattutto fatta da una donna parla di contenuti molto espliciti parla della propria sessualità parla del riappropriarsi del proprio corpo lei si definisce una nasty girl e da qui viene anche ripreso il nome della marca che l'ispirazione riguarda queste cose ovvero una ragazza cattiva una ragazza che non riesce ad essere addomesticata che non vuole fare quello che le dicono di fare che non ha interesse alcuno nel volere scendere a compromessi e questo suo essere estremamente esplicita e non volere mai scendere a compromessi porterà a una serie di conseguenze per la vita di Betty innanzitutto nessuno vuole mettere i suoi dischi i suoi album perché sono troppo sceni vengono considerate una donna che dice certe cose che vuole vivere la propria vita sessuale che vuole esplorare il proprio corpo che vuole essere una cattiva ragazza non è un buon modello per l'America degli anni 70 e quindi i suoi dischi non passano nelle radio nessun DJ si sognerebbe mai di metterlo e anzi viene anche bollata come una ragazza che non sa cosa sta facendo nei suoi dischi ruggisce nei suoi dischi suona tante cose fa dei versi e Betty a un certo punto gliela da su a fine anni 80 si ritira e non vuole mai più avere nulla che fare con la scena musicale perché lei non vuole fare musica che non esprima quello che pensa non è interessata a scendere a compromessi non verrà mai addomesticata da nessuno soprattutto nell'ambiente musicale immaginatevi cosa poteva voler dire negli anni 70 dire frasi come portami a casa tua stasera stasera mi farò questo lo frusto con la mia catena quando era la sua geisha insomma cercava di ribaltare proprio del tutto il ruolo femminile riapproparsi sia del proprio corpo che della propria identità e questo non era accettabile quindi insomma Betty Davis da un lato secondo me rappresenta tante cose ci tenevo ad adottarla io primo perché le voglio un gran bene da sempre e credo che sia veramente una delle persone più rivoluzionari che abbiano inciso soprattutto nel mondo di oggi nella musica quando oggi sentiamo grandi artiste pop dire certe cose sono quasi anche svuotate del proprio significato penso a Beyonce penso a Britney Spears penso a queste cose e non c'è nulla di male nel dirlo ovviamente però negli anni 70 rappresentava una cosa molto diversa rappresentava il poterlo dire il poter dire che non era legata a certi stereotipi non voleva essere la moglie che sta a casa e cucina e basta non voleva essere funzionale ai suoi uomini ma voleva esprimere la propria identità e la propria libertà anche dal punto di vista sessuale e poi una cosa importante che voglio affrontare anche più avanti e approfondire questo tema nel mondo della musica le donne hanno sempre dei ruoli di secondo piano vengono sempre messe da parte ciò che dice un uomo va bene ciò che dice una donna è difficile c'è sempre troppo poco spazio per le musiciste eccetera e una come Betty Davis ha deciso anche proprio di non scendere a compromessi anche a costo di buttare all'aria la propria carriera di non avere più nulla a che fare col mondo musicale che è una scelta che io rispetto un sacco e stimo tantissimo proprio perché ha cercato di essere se stessa proprio fino in fondo anche a costo di non dover mai più comporre una canzone anche a costo di non incidere mai più un disco e di non essere passati in radio sempre per rimanere fedele a se stessa e io rispetto questa cosa tantissimo e insomma avere a che fare con la musica da donna è molto difficile soprattutto nell'ambiente che è dominato da uomini e questo mi spiace ma è un dato incontrovertibile detto ciò Betty Davis è davvero uno degli esempi che più mi hanno colpito perché era già una figura che io amavo e quindi mi ha fatto piacere ritrovarla qui ma tutto il volume di Indomite è costellato da personaggi che davvero in un modo e nell'altro sono di estrema ispirazione ci sono tanti personaggi che a me sono piaciuti molto e niente io chiaramente sono molto felice di fare parte di questa iniziativa ed aver adottato Betty Davis perché le voglio troppo bene e ricordatevi che anche voi potete essere nasty girls e che va bene e non c'è nessun male niente io ringrazio la Bao che mi ha inviato il volume in anteprima e sono qua a parlarvene in toni entusiastici come avevo fatto per il primo volume perché questo secondo me è addirittura migliore e affronta tantissime tematiche dalla politica alla musica all'arte alla società affronta donne molto giovani bambine e anche anziane e questa cosa mi è piaciuta moltissimo quindi niente io anche oggi questo secondo video che vedrete mi fa davvero super piacere partecipare a questa iniziativa e niente giù trovate ovviamente i link per acquistare il volume ma soprattutto vi linko anche un po' di dischi e singoli di Betty Davis che secondo me dovreste conoscere e niente io vi ringrazio di nuovo per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che anche voi potrete trarre respirazione da indomite e niente come sempre oggi è anche il Feminist Friday in più è anche l'8 marzo quindi è una giornata importantissima bellissima e cade proprio a fagiolo se nella vostra città organizzano qualcosina io vi invito a partecipare a delle iniziative vi invito ovviamente a farlo se siete di Bologna io sarò ovviamente in giro e niente vi ringrazio ancora per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e direi che ci vediamo alla prossima ciao ciao